ciao a tutti ecco voi un nuovo video di nail art in questo video vedrete la realizzazione appunto di questa nail art finalmente sono tornata finalmente dopo il parto sono riuscita a sistemarle come dio comanda con appunto questo nuovo colore di estrosa che mi è piaciuto veramente tantissimo e appunto vedrete la realizzazione l'anteprima l'avete già vista nei social adesso vedrete la realizzazione passo di passo quello che ho fatto fatemi sapere cosa ne pensate al prossimo video un grosso bacio questo è il risultato finale della mia idea della mia nail art e se vi fa piacere seguite il tutorial come prima cosa ho preso questo colore di estrosa che è un rosa molto coprente e a me piace tantissimo lo stendiamo a monocolore su tutte le unghie così voi potete vedere comunque la coprenza e anche la colorazione appunto del suddetto colore stesure molto sottili che tanto ne daremo due prendiamo questo bianco sempre di estrosa e sul medio iniziamo a disegnare con un pennello sottile due diciamo semicerchi bianchi scusate se non si vede benissimo in due estremità diverse dopodiché prendiamo un altro colore della collezione wild appunto nuovo che fa parte anche dell'altro colore che avete visto prima che è questo mettiamo su un pezzo di carta non assorbente quindi potrebbe essere anche la carta da forno il colore prendiamo lo spot e iniziamo a fare i puntini come vedete dall'immagine e li faccio più grandi da dove sono partita affinché arrivo a farli più piccolini e riempio tutta la parte dopodiché sigilliamo tutto e prendo appunto questo colore che è un colore persistanza quindi non necessita di sigillatura scusate e facciamo questo piccolo decoro dove ci sono appunto le alette le alette bianche ora prendiamo la colla già il colla di passione unghie e gli strassi li mettiamo appunto come avete visto dalle immagini prendiamo questo colore che è il bianco autolicidante sempre di estrosa che dovreste conoscere a memoria un pennello più sottile rispetto a prima e iniziamo a fare questi disegni li facciamo sia da una parte che dall'altra li mettiamo appunto in lampada a catalizzare e la nostra nail art è finita questo è il risultato appunto finale della nail art fatemi sapere cosa ne pensate se vi piace non vi piace insomma fatemi sapere tutto e al prossimo video un grosso bacio a tutte ciao